Da circa tre settimane il servizio CERD sulle dipendenze a Vallo della Lucania è stato chiuso. È la denuncia che arriva dalla Federazione Sindacati Indipendenti con il delegato locale Roberto Ronca e la segretaria territoriale Maria Teresa Esposito. Apprendiamo con stupore il rammarico, scrivono in una nota ai vertici sanitari e ai sindaci del territorio che l'apertura è stata ridotta un solo giorno alla settimana per la somministrazione della terapia sostitutiva. La soluzione alla carenza di medici adottata dalla nostra azienda è quella di chiudere il servizio CERD ribaltando inevitabilmente il problema delle dipendenze sulle famiglie. Chiudere un servizio in maniera provvisoria rischia di trasformarsi in una chiusura definitiva. Il sindacato chiede dunque di ripristinare l'operatività del servizio. Ma il dottore Carmine Acconcia, responsabile dell'unità operativa complessa CERD numero 4, che comprende servizi territoriali sulle dipendenze di Vallo, Agropoli, Sapri e Sant'Arsenio, ha spiegato alla nostra emittente che si tratta di un provvedimento temporaneo. Il CERD di Vallo, ha detto, non è stato né ridimensionato né chiuso, ma solo riorganizzato fino al 30 novembre con il personale residuo, al fine di garantire comunque il servizio agli utenti e il diritto all'incolumità degli operatori. La decisione è infatti arrivata dopo che per una serie di vicende il CERD Vallese è rimasto temporaneamente con un solo operatore in servizio, cosa che ne impedisce il normale funzionamento. La situazione rimarrà tale comunque solo per un altro mese. Di certo si tratta dell'ennesimo caso che mostra le conseguenze della tavica carenza di personale sanitario.